Musica Musica Sicuramente siamo rientrati con la giusta voglia, la giusta cattiveria, adesso ci stiamo preparando al meglio per affrontare subito la prima giornata e sicuramente affronteremo in maniera diversa l'inizio del nuovo anno e a differenza del girone d'andata Musica Questo lo scopriremo la settimana prossima, i presupposti sono quelli e da come ci stiamo allenando sembra anche così, adesso aspettiamo la prossima settimana Musica E adesso andiamo là a fare quello che loro hanno fatto con noi nel girone d'andata, cercando di fare noi la partita e portare a casa i punti, ancora meglio i tre punti Musica Musica